Sì, c'è la francigena, vedi che c'è il pellegrino. Guarda, un tasco! Non l'ho visto mai! E' costruita tutte le bombe, alle 20.45 al Ponte Siciliano. Abbiamo visto un tasso. Abbiamo visto un tasso che attraversava la strada prima. Guarda quanti! Fischia di partenza! Ci lasceranno stare, non voglio mica che possano scoccare la terra l'aria e ogni bene naturale per provocare conseguenze... Questo è qualcosa di carta. Contra resistente, quindi possiamo usarlo per scrivere e poi attaccarlo così sul cancellone. Noi abbiamo giocato anche qualcosa di giallo ma abbiamo voluto dipingere bene tutto questo muro. Abbiamo una bella venice arancione albicocca, tennarelli. Abbiamo da leggere. Io tenevo per il Portogallo. Abbiamo da leggere gli articoli della Costituzione. Io ho anche Primo Levi e i 150 motini. Noi stiamo mettendo le nostre carte d'identità perché il principio è a viso scoperta, a mani nude. Noi abbiamo le fotocoppie in grande delle carte d'identità e le appiccichiamo lì. dietro uno scorta. Ti chiede la sorta di colligione che ti vengono. Ci hanno portato anche un faro ma per loro gentile concessione ce l'hanno già messo. Si sta qua, facciamo un sacco di cose, mettiamo delle robe in cartapesta, suoniamo, cantiamo, leggiamo per l'esatta durata di questa azione che si chiama Finale di Partina di Partina, citando Beckett. Ci vediamo questo a l'Arabi. Grazie. 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 Grazie.